C'è un gran pubblico di Sassari, ragazzi che sono pronti a divertirsi, ma qui volevamo iniziare appunto questa presentazione con quello che è un meroso graziamento del mondo dell'automobile a quella della regione salategna con grande soddisfazione. Grazie per la visione! Andiamo sull'italiano, grazie per essere qua con noi, torna al suo rally! È un piacere mio di essere qui con tutti gli amici, tutti gli appassionati del rally e dello sport e di avere questa partenza di un mondiale particolare per l'APA, per l'ACI con il mio amico Angelo Stichitamiani e per tutta la regione della Sardegna. Grazie! Ho apprezzato molto il fatto che Giancotto, nonostante oggi ci fosse già iniziata la 24 ore di Lamà e altri problemi importanti che aveva da Parigi, ha preferito venire qui e mantenere questo tempo. Non mi sono grato, questo è un atto di affetto nei confronti dell'Italia e la Sardegna mi apporso un po' di mantenere i miei contratti. Innanzitutto è un onore essere qua a Sassari con Giancotto e Angelo Stichitamiani, la regione autonoma della Sardegna che sta facendo uno sforzo in un momento difficile per avere una manifestazione di questo livello che certamente fa bene all'immagine della nostra prova. Sassari con Giancotto e Angelo Stichitamiani Sassari con Giancotto Sassari con Giancotto e Angelo Stichitamiani